Oggi abbiamo avuto l'incontro al MEF col governo, abbiamo fatto le nostre proposte per le ambiguità del testo di legge del fondo di ristoro, queste proposte sono state discusse e da parte del governo c'è stata un'apertura per quanto riguarda il 30% che sia considerato un acconto, per quanto riguarda legare all'ACF anche il reato penale che quindi facilita l'accesso al fondo, la disponibilità a parte del governo è di fare l'accesso più facilitato al fondo e soprattutto abbiamo proposto di levare via il problema che i risparmiatori se accedono il fondo devono rinunciare alle cause. Il governo ha dato la massima apertura, verranno creati fatti degli emendamenti con i gruppi parlamentari e siamo fiduciosi che tutto si risolva il più presto possibile. Da parte del governo c'è stata la disponibilità ad aumentare l'acconto del 30%, quindi hanno già previsto l'inserimento di un altro miliardo, quindi un totale di 2 miliardi e mezzo, quindi questo ci fa pensare in maniera fiduciosa che tutto si chiuderà ben presto e nell'interesse a tutela dei risparmiatori traditi.